Piccolo avviso ragazzi, se in questo video e nei prossimi non mi sentirete urlare, scherzare, urlare a scorciagola, parlare forte è perché sono in casa d'altri, non sono in casa mia, alcune persone dormono e quindi devo parlare a bassa voce e non fare per niente baccano quindi scusatemi ragazzi se parlerò a bassa voce e vi sembrerò triste, in verità è solamente perché certe persone davvero dormono e non posso quindi parlare a alta voce scusate per questa piccola premessa al video ma ragazzi qui di Dio ci si gioca un altro po' è Happy Wheels allora ragazzi ripeto, ripeto, sono in casa d'altri quindi non posso urlare, non posso fare troppe voci e la gente urla, si durla, ci incurla e la gente ora sta dormendo in questa casa quindi non potrò urlare molto però non avevo assolutamente altro tempo per poter fare video che non la sera tardi quindi eccomi qua, comunque broslevers è dato che non giocavamo tanto a Happy Wheels e ho detto perché non farlo quindi giochiamo ai meglio votati di questa settimana così che ragazzi ci sia almeno qualcosa di nuovo facciamo per rating va? vai ok così almeno non giochiamo sempre gli stessi perché i più votati di sempre sono sempre gli stessi allora Fritz Paulson GXP oh mio Dio Jimmy, porca puttana, quante volte ti ho detto che odio essere un fottuto unicorno quante volte ti ho detto che odio essere un unicorno wait till the father is of the bike press C press control have fun ok ok control papà, vaffanculo, papà, sono una scimietta e me ne vanto guarda cosa accade, oh mio Dio, easy mod ok ok Jimmy no, papà, questa volta sono io il protagonista questa volta io vincerò io oh mio Dio no le spade, le spade oh mio Dio mi sembra di essere fottuto ok oh bloccato è bloccato tutto sì perché sei un fottuto coglione tu e la tua telecinesi no papà aspetta mi posso liberare non tutto è perduto non tutto è perduto sì ok allora qui ci sono delle spinopure oh oh ce l'ho fatta oh la mia testa di cazzo è molto duro oh Jimmy ti odio brutta puttana mio papà sono uomo no basta finito basta non posso manco più parlare bergit epic looping eh ok Jimmy sei pronto? no papà ti prego no papà no oh no cosa 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 è successo? ok aspetta fammelo rifare ti prego menù perché non vai esc allora se pronto Jimmy vai tu vai tu vai tu bravo oh mio Dio veloce era era veloce e oh mio Dio mi sono rotto un braccio ma sono ancora in piedi sono ancora in piedi e vince e vince dove è Jimmy intanto? ecco non c'è più va bene evviva per tutti noi eh super speed jetpack super ripeto ragazzi se non posso urlare sapete perché su che devo fare? oh 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 mio Dio wow ok 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 si è pronto George? ma certo per la baguetta io mi farei infilare i jetpack nel culo oh mio Dio ragazzi oh mio Dio oh mio Dio minicames fixed vediamo oh ok allora che devo fare qua? ball fall che devo fare? ah wait a few seconds ok scorreggi intanto ah ok ball fall ball fall dai dai che ce la fai dai che ce la fai ole oh questo mi sa che è difficile ok level 2 vai dai che allora Ramirez Antoine de la Rosa Ramirez con l'escargot sulle montagne franze della Spanias devi stare attento hai fottuto i pallini perché porca puttana ma certo ma è la paella e io poi sto assumendo questa voce simile a George e non è una bella cosa fa un culo perché ogni volta che voglio provare a parlare spagnolo parlo in francese perché perché ball pro ok questo qua è bello ok ragazzi vai rope swing anzi possible 0.88% davvero devo fare questa cosa allora Jimmy Jimmy però per una volta dobbiamo alle Jimmy devi essere la mia cavia aspetta 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 ora no ho sbagliato ho sbagliato Jimmy di merda ora cazzarola impossibile per davvero questo affare merda niente non ce la faccio Jimmy potevamo allearci hai perso la tua occasione rope swing vai rope swing eeeh go 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 eeeh go 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 vai George allora in questa baguette se vincerò questo mi ci metterò un salam un fromage e un escargot George proprio no proprio stai sbagliando tutto se vinci la baguette ci metti la merda di Peppa Pig come nella mia fancula a te stesso non a me a te stesso è colpa tua che ci vuoi mettere la merda di Peppa Pig no sono stato io a dirlo eri tu a dirlo fotte sega capito prendi da fare prendi da fare ok allora ragazzi ho anche la telecamera scarica davvero vabbè ragazzi questo qui comunque eeeh non potevo farlo donare troppo anche perché capisco che Happy Wheels è giocato in questo modo non rende molto ma capitemi non posso urlare per niente e vince e vince e vince facendosi un pompino e vince facendosi un pompino perché è giusto così can you survive vediamo good luck vai oh mio dio no li odio questi ho già perso però aspetta aspetta forse forse speravo ma no restart allora aspetta ok ce l'ho idea 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 guardate eh vai aspettate 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 no era geniale ragazzi se avete capito se avete capito la mia idea capite quanto quanto sono genio dobbiamo fare oh merda no 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 allora ragazzi voglio finire questo video facendo questo se il video si stopperà all'improvviso sapete che è la mia telecamera che si è che si è scaricata sappiatelo merda vai via te no 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 ragazzi devo farcela appunto devo farcela vai ok ora devo sping devo spingerla un po' vai 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 perché non va giusto a fare perché perché non riesco a spingere perché perché non vai giù no oh mio dio ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono vivo ce l'ho fatta per davvero ragazzi ce l'ho fatta per davvero ok facciamo matrix via e basta ok oh mio dio troppo semplice ragazzi troppo semplice chiudo qua questo video ragazzi anche perché ho la telecamera scarica e minecraft in questo modo non rende sì minecraft la derby in questo modo non rende per niente ci vediamo nel prossimo video lasciate un bel mi piace un commento diventate fan sotto la base in la tuba ragazzi ciao